Il primo tempo, Trivela Team, nuove furie, ristato in 4 a 1 per Trivela Team, andiamo dal capitano. Capitano Cognome? Federico. Federico, una grandissima partita per voi, un grandissimo primo tempo. Cosa mi dici? No, abbiamo cominciato bene, però siamo già calati nel finale, non va bene. 4 a 1 non ci dà la sicurezza e dobbiamo ricominciare forte il secondo. Ok, in bocca a lui il secondo tempo. Andiamo dall'altro capitano, Liguri se non sbaglio. Liguri, un primo tempo in ombra, come mai? Bruttissimo. Non lo so, almeno nella scorsa settimana eravamo agguerriti, mi sacca, ma stasera non c'è, non lo so. Quindi nel secondo tempo cosa si deve fare assolutamente? Eh, nel secondo tempo, abbiamo un po' attirità pure, non lo so, ma vediamo un po'. Va bene, in bocca al lupo, ricordiamo il risultato. Nuove Furie 1, Trivela Team 4, ci vediamo dopo. Dopo la partita del match, Trivela contro Nuove Furie è terminato 7 a 4 a favore del Trivela Team. Il migliore in campo è il capitano, Federico, vatore di una doppietta, bella prestazione, anche qualche assist determinante per la vittoria dei suoi. Mentre per gli avversari, Napolitano, giusto? Napolitano, vatore di una bella gara sulla fascia, ottima prestazione, uno dei pochi a salvarsi della sua compagine, parliamo prima con te, se siete andati in difficoltà, soprattutto nel primo tempo, 4 a 1 nel primo tempo, poi nella ripresa avete reagito bene, ma non siete riusciti a rimontare. Allora, primo gol ho preso a calcio all'inizio, calcio all'inizio, giusto, giusto a punto. Abbiamo iniziato 0 a 0 sotto un gol, e poi 2-3 ruoli tra difesa e po' tiro, quindi poi di sotto ero troppi gol per recuperare. Siete andati sotto. Ogni sbaglio è un gol subito, è passato, mi sembra. La vostra situazione nel torneo dopo due giornate, se non sbaglio, è di 0 punti. Solo che, devo dire, rispetto alla prima partita, abbiamo già giocato. Avete giocato, sì. Quindi, diciamo, il futuro... Forse un pareggio, no... No, no, non scherziamo, avete tutte le possibilità per fare bene. Ti saluto, alla prossima. Ciao. Saluto da Napolitano, adesso parliamo con il migliore in campo, il capitano. Bella doppietta, bella prestazione. Come va il trivelato in me? Grande, bella reazione. Sì, sì, tutto bene. Avremmo cominciato la prima partita male, con una scompitta, volevamo rifarci. Avete reagito davvero bene, sì. Il primo tempo meglio, il secondo tempo siamo un po' calati, ma fortunatamente abbiamo ottenuto il risultato. Dove può arrivare questa compagine? Non ci vogliamo porre limiti, giochiamo giornata per giornata. Vuoi dedicare a qualcuno questa medaglia, questa bella prestazione? Sì, 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 alla squadra, alla squadra, perché se lo merita, si impegna e quindi meritava la vittoria. Va bene, salutiamo a Federico, tutti gli amici del trivelatim e ciao ragazzi.